Il presidente del club Napoli di battipanchi, il club Napoli di battipanchi, prego, come si chiama? Isidoro. Isidoro, la tua sensazione? I discorsi da fare in effetti sarebbero due. Sì. Noi non pensavamo mai di arrivare dove siamo arrivati. Poi visto la partita ci rimane un rammarico che secondo me potevamo pure passare il turno perché il Chelsea... Nessun errore secondo te, la tua impressione? Vabbè non voglio andare in merito perché non sono un tecnico ma comunque ci rimane un rammarico perché secondo noi potevamo passare pure il turno con un po' di fortuna.